Saguinetti, alla fine di questa partita, vogliamo chiedergli come ti trovi in questo Lugano e nei nuovi schemi. Come ti senti con il nuovo plan di Lugano? È abbastanza buono, credo che dall'inizio stiamo cercando di sviluppare ogni giorno e di migliorare. Questo è stato un grande vinto per noi, per ottenere i 6 punti, 2 di 3 vinto per la settimana, quindi continuiamo a continuare a sviluppare. Andando avanti con il tempo è migliorato. Bob, venivamo da due sconfitte a Lausanna e a Zugo martedì sera, ora avete fatto due vittorie che vi hanno anche rilanciato in classifica. Siamo da due difenze, in Zugo e in Lausanna, ora ci sono due vittorie, vi porteremo in un'altra parte? Sì, c'è alcuni buoni vittorie, vittorio sulle vittorie è importante, quindi l'ultima notte è stato un grande vittorio e poi qui a casa è buono di guardare l'acqua, quindi ci sono molte emozioni e siamo entusiati. Ha avuto molte emozioni durante queste nuove vittorie, quindi si rivela eccitato. Volevo chiederti come ti trovi a giocare con Führer, un giocatore molto esperto che sicuramente mi sembra di aver visto che c'è già molta intesa fra voi due. Come ti senti con Führer in difensore, con lui c'è molta intesa? Sì, è stato buono, Führer è un buon difensore per me, è solidale, mi permette di essere offensivo, quindi è stato un buon fit so far, e noi stiamo cercando di migliorare ogni giorno. Si sa che è un bravo difensore, è un buon difensore, quindi ogni giorno si migliora insieme nel gioco con lui. L'ultima cosa, la domanda, l'anno scorso giocavi a Klotel, giocavi molto probabilmente per salvarti, quest'anno giochi per il titolo, cambia qualcosa per te? L'anno scorso giocavi per salvarti in Klotel, e questo anno qualcosa ha cambiato per te? Sì, è importante arrivare qui per cercare di vincere qualcosa, questo è importante per me, è bello andare così farlo nelle gioco, è bello arrivare a un team che è competente per l'anno scorso, come ho detto, è solo un gioco a un po' e vediamo dove si arriva. È bello adesso gareggiare con un team, con una squadra che gioca per vincere. La differenza dell'anno scorso è che doveva giocare per non retrocidare. Sì. Ti facciamo tanti complimenti e speriamo di vederti sempre in forma, come questa sera. Vi ringrazio a te e speriamo di vederti in una buona felicità come oggi. Grazie, grazie per avermi. Grazie.